Mi sono trovata bene con questo gel detergente sfoliante della Cleanance e non l'avrei mai detto, visto che lo scelsi perché era un prodotto maggiormente digitato su YouTube. Si presenta come un gel trasparente con delle microparticelle sfolianti, che a prima vista potrebbero sembrare micro bollicine di acqua o aria. In più ha delle palline più grandi di colore verde che si sfaldano, massaggiate e sciogliendo si spariscono. Non avendolo formulato io, non so cosa siano le palline verdi, ma mi porta a pensare che sia cetriolo o qualcosa dell'acqua di tè verde, visto che è roba contenuta in questo prodotto, sebo equilibrante e astringente. Il profumo è di pulito, non so descrivervi l'odore, potrebbe essere di cetriolo, ma anche no. Ritornando a quello che io so, lo utilizzo solo sulla zona T, infatti il prodotto consiglia di essere utilizzato in quella zona. E dopo averlo usato, se io passo le mie dita sopra la zona trattata, sento al tatto che la mia pelle è più liscia. Credevo fosse un prodotto più aggressivo, ma non lo è. Ma comunque vi consiglio di utilizzare dopo una crema a viso. Sul retro del flacone vi consiglia la crema Viso Idra Plus opacizzante, che io attualmente non ho. Ne ho già altre, ma in futuro non escludo l'opzione di comprarla, visto che tutto quello che questo gel ci promette è rispettato. Quindi io approvo a pieni voti questo gel detergente esfoliante. E sì, lo ricomprerei. Da utilizzare anche solamente quando la mia pelle è molto problematica. Perché a volte ci vuole qualcosa di più forte rispetto al classico struccante viso. Ciao, alla prossima recensione o al prossimo video in genere. Buona giornata!